Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Sindaco Ruvolo, partiamo dall'operazione dei carabinieri e da quello che è emerso. Purtroppo uno spaccato angosciante ancora per la città di Ribera con decine di persone che acquistano stupefacenti. Lei da amministratore comunale, ma direi anche da genitore e da riberese, come commenta tutto questo? Io saluto con grande piacere l'operazione brillantemente portata a termine ieri alle prime ore del mattino da parte dell'arma dei carabinieri, che ringrazio con in testa il comandante provinciale, il comandante della compagnia di Sciacca Vergato e il capitano Proietti, con i quali ieri mattina mi sono sentito per complimentarmi e ho chiamato anche Sua Eccellenza il prefetto perché, come dicevo ieri, questo problema di Via Tevere, di quel quartiere che era diventato una piazza di spaccio in mano a questo gruppo di extracomunitari, è stato uno dei primi problemi che ho segnalato all'attenzione di Sua Eccellenza il prefetto e subito dopo il mio insediamento. Tant'è vero che poi ai primi di novembre e ai primi di dicembre si erano tenuti due comitati per l'ordine e la sicurezza, alla presenza del comandante provinciale dell'arma, del comandante provinciale, la guardia di finanza, del questore Raci e di Sua Eccellenza il prefetto, proprio per programmare un intervento in questa direzione, in questo senso. I militari dell'arma sono stati bravi da marzo in poi ad avviare queste indagini che hanno poi portato al risultato di ieri mattina. Quello dello spaccio di stupefacenti e dell'uso degli stupefacenti a Ribera è una piaga sociale che va affrontata con serietà non soltanto con la repressione doverosa, opportuna e che dà risultati, ma anche dal punto di vista della prevenzione, perché bisogna partire dalla collaborazione fra istituzioni, con le scuole, con le associazioni, con la Chiesa. Tant'è vero che visti alcuni fatti tristi, spiacevoli che hanno fatto piangere le nostre famiglie di riberesi per morti per droga e si è anche istituito a Ribera un centro di ascolto per dare aiuto a quei ragazzi che magari si sentono soli, che vivono la solitudine, che vivono questo problema in solitudine e che quindi possono appellarsi gridando aiuto a qualcuno. Va affrontato con serietà, cercando di lavorare preventivamente, partendo dalla scuola elementare, per far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani, che la droga è qualcosa che distrugge le loro vite, che spezza la vita dei giovani e che quindi bisogna far sì che la comunità, le istituzioni, siano accanto e offrano qualcosa di meglio per i nostri ragazzi. Senta Sindaco, a proposito della vicenda relativa a Via Tevere, ci aiuti a capire, queste sono delle strutture inagibili, però rimangono in piedi ancora e già da tanti anni. Capisco che attività di spaccio a Ribera nel passato era stata svolta anche in altre zone, però perché queste case sono ancora in piedi se sono inagibili? Questo è un problema che si trascina da più di vent'anni, da circa venticinque anni, quando quella zona è stata colpita da una frana che ha reso inagibili quei locali, le famiglie sono andate a vivere altrove, avevano avuto anche un'indenità da parte dell'allora governo regionale guidato dal, se non ricordo male, da capo di casa e questi sui mulacri sono rimasti in piedi. L'impegno che ho preso come sindaco, come amministrazione comunale, ne ho già parlato con l'ufficio tecnico comunale, e già si è lavorato per un progetto di massima, è quello di riqualificare quella zona, di bonificarla. Quegli immobili vanno abbattuti, va fatto lo smaltimento di tutto quello che verrà fuori dall'abbattimento e va riqualificato. Il progetto prevede che là venga realizzata una bella aria verde. Certo, non si potrà fare con le risorse comunali, perché i bilanci comunali non permettono interventi di questa entità, ma è chiaro che siamo impegnati per poter intercettare un finanziamento che possa finalmente bonificare e riqualificare quel quartiere e quella zona del Riberese. Quanto serve per intervenire? Il progetto di massima prevede circa 3 milioni di euro per fare l'intervento, quindi ci rendiamo conto che i bilanci comunali non ci permettono di fare questo tipo di lavori e di interventi. Però l'impegno mio è quello di poter trovare dei finanziamenti nazionali o regionali perché finalmente, dopo così tanti anni, dopo così tanto tempo, quella zona possa essere veramente riqualificata. Grazie.